allora no si approfitto anche di questo piccolo spazio pausa post caffè visto che c'ho ancora qualche secondo libero e sto rispolverando casa ho ritirato fuori questo classico così dire del nuovo pop hip hop album di mia detto chiamato maya uscito esattamente 14 anni fa e ristampato poi addirittura in versione deluxe in doppio cd mi sembra questa è la stampa originale presa all'epoca solo con 12 pezzi allora lei è stata una figura importante mia sta per missing in action è una cantante inglese di origine dello sri lanka molto combattiva molto a sinistra quasi fosse un una novella nene cherry la figlia di don cherry però secondo me con più qualità artistiche indubbiamente di nene cherry di quando stava ovviamente nene cherry dopo fuoriuscita da rip rigen penny che parlo la sua carriera solista quella pop anni 90 allora questo disco qui è un caposalto del genere per chi ama le ritmiche le polirittmiche distorte di matrice industriale è una sorta un po di anti arca arca forse più sperimentale lei è più in superficie quindi le sue sono forse più epidermiche però in meno in questo disco qua che è il suo terzo album tutto funziona molto bene e i riferimenti al passato ci sono e sono non solo copia in colla buttati lì appiccicati con lo scotch ma le influenze che lei prende da meno dei suoi producer prendono da dalla new wave dei tempi belli dei suicide e anche un po di funk punk quindi delle azioni anche un po contorsion o cose simili mars sono ben fatte chiaramente tutto rivisto è una chiave ottica digitale quindi con produzione chiaramente anni 2010 non si discosta molto da certe cose di arca però arca sperimenta più sulle sui suoni e sulle ritmiche qui è siamo proprio più nel dance floor quello proprio comune però un dance floor di ottima qualità molto ben fatto contesti interessanti combattivi sinceramente combattivi quindi non sono anche insomma tanto di cappello lei ha dotato anche di una buona non dico estensione vocale quello magari no però insomma di una voce anche abbastanza particolare ecco è un buon disco pop pop elettronico in bilico appunto tra industrial new wave e hip hop è un disco che ieri ascoltavo quello precedente lo ascoltavo solamente in streaming che io solo questo di disco suo credo di stare a posto e ma questo è un disco che io raccomando caldamente perché è uno dei capisaldi del genere è uno dei migliori usciti in tale ambito si trova ancora comunemente sia su sia su spotify ma si trova anche a comprarlo da poco su amazon comunque penso che con una decina d'euro ve l'ho portato a casa con spedizione gratuita ecco buon ascolto e sì maglia sì 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 lo stavo proprio rimettendo adesso pausa caffè molto molto divertente questo ci faccio quattro salti dopo mentre finisco di pulire casa ciao ciao